ansa benevento 38 non dobbiamo mai perdere l'atteggiamento giusto tutti devono darmi per l'intera gara quanto abbiamo espresso nei primi 31 minuti del secondo tempo se facciamo questo non siamo affatto da ultimo posto e questo l'ho sempre pensato dobbiamo lottare fino alla fine ed essere consapevoli della nostra forza ora recuperiamo le energie la forma e ripartiamo da quei 31 minuti del secondo tempo così l'allenatore del benevento roberto de zerbi ritorna sulla gara casalinga dei giallorossi travolti dalla lazio 5 per l'undicesima sconfitta consecutiva un commento che rispecchia quello della tifoseria campana che per lo più dà fiducia al nuovo allenatore e al presidente oreste vigorito mentre non mancano critiche per l'ex allenatore baroni e il direttore sportivo di somma per l'errata campagna acquisti non all'altezza del campionato di serie a